Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Eh, guarda se ti ho sentito Scusami No, no, ho sentito, ti dovresti scusare Scusate, è una battuta di pessimo gusto Ancora non deve... Molto maschilista Ma è da un po', è da qualche mese C'è bisogna un attimo Mi ha messo giù per sparare un nemico 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 Sto scherzando Scusate Scusate È andata È successo L'ho cacciata No ma era una battuta Mi è venuta una naturale Perché comunque sai Ti è venuta naturale perché Comunque sai che cosa Vabbè Siamo stati più bravi di noi Tocca a cocchi ragazzi Che aveva Aveva L'abbè basta Allora Secondo me Se lo sceglievamo da soli Era meglio Così giochi anche te Sì No 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 Brutta 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 Un gatto Eh scusa mi chiedo Era un gatto o un bambino? No non è C'è un piccolo Un piccolo errore di Ragazzi ma questo qui era veramente Cioè posso dirlo No questo era fuori di testa No questo era fuori di testa C'è un piccolo errore di testa Questa non è mai Spiazzola Però sì Ci avrei preso gusto A darti scandalo Merovigna O disgusto Raga Io non porto le mentande O almeno non sempre Mi piace darle aria Mi vestirei soltanto di Kirlande Propagandando la mia fica libertaria Che poi cresce la mia fanbase E paga Non ho un problema A pagare i vostri vizi Ve lo prometto Looking shaming raga Vi sono aperta Tutti i vostri schizzi Non mi ho mai detto Sarebbe stato facile Perché alla fine Non sono la più facile Però sì È stata un'esperienza brutta Diciamo che ha avuto qualche complicazione E usava i denti Ok E quindi niente È stato abbastanza sofferente E in 45 minuti nel parcheggio Non abbiamo finito nulla Ok Eh Fa ridere sì No non fa ridere Non credo faccia ridere A me è successo Con una mia ex famosa Una cosa del genere Cioè che non ti piaceva Ogni volta che No 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 Che ogni volta che ci andava con i denti Poi mi guardava E tornava a morde E io non sapevo che cazzo fa lì Veramente Green Non sapevo che fa Io ogni volta che rideva Porca Su Deducto sono una delle persone più forti al mondo Non che Primo streamer al mondo Nel 2023 Per Deducto Io non capisco Guarda questa Fissa dei numeri Guarda Niente Sono stupito Comunque C'è C'è Billy Bella Se vuole Se volete Vai Devi entrare nel Streamyard Dai Butta dentro Chat Chat Vi posso Risate Chat vi posso io Una cosa Ve la prendete con Simone Perché È pipì È pipì È pipì Va bene Cos'è quella roba gialla Naomi Fatti cazzi i tuoi campi cent'anni Vabbè Brava No 6 metri Che cazzo è Questo coglione Con i capelli bianchi Va bene Va bene Ciao Mirko Grazie Ciao Ciao Incredibile Ma che Aveva Aveva Ammettato Ammettato Il primo Contropogio Sì Sennò non si spiega Stava dirtato dopo 4 Luz de fila De Brawl Stars Ah sì No era Gianmarco si era impossessato Del corpo di ciccio Sembrava Sì Sì Vero 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 Vabbè niente Non c'è ciccio Serve Dottor Bavaro Serve uno Ragazzi Se donate le sub Vorrei essere il piano di sotto Non donate le sub Per questa causa Non donate le sub Grazie No Idioti Non donate sub Per questa causa Non donate sub Per questa causa Non è una cosa Appello a tutte le community Non donate sub Per questa causa È una causa Molto molto triste Molto brutta Ragazzi Manca un minuto Un minuto Sì Sì Non so come si dice Sta parola Ok Adesso Mondo un video a mia mamma Che poi mi dice sempre Perché non esci di casa Guarda Allora Mi dici sempre Che non esco di casa Adesso Perché ragazzi Non si può andare davanti così Cazzo Io non posso sempre Prendere gli abusi Della mia famiglia Che sto tempo a casa Non ho una vita sociale Non ho mici Non ho niente Ma cosa sta facendo Oh timing Quelle robe lì da stupidi Non me ne frega niente di quello Ma non mi piace Non lo trovo piacevole A livello corporeo Quindi non lo faccio Per questo motivo Principalmente Quindi ci sta No? È un gusto No? Normale Quello Non lo metto in dubbio Vabbè Tu metti la provata? Ok Grazie Giordano Perché ragazzi Non mi fa mettere la password Cioè me lo resenta Perché il gattone Continua a mandare Delle emoji animate Di mele Che sono Eccitatissime Ma io sono morto Sto facendo una strage Che cosa è invisibile Dove l'avete messo Non vedo la chat La vedi Non mi fa entrare minimamente Ma cazzo No no Stai sperando Porco Dio Andami qua È bluizione adesso Sto sborrando Aspetta seconda No non dillo così Ma non devi dire Ti ho secondato No per forza I metti i versi I metti i versi I metti i versi Stai gorendo Stai gorendo pesantemente Vai 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 Potresti sentire qualcosa Ma Sto venendo Scusami Sto venendo Sto faccio ora Ma cazzo Ok a un certo punto Nonna via via Dai nonna vai via Per favore Nonna No potrei sentire Qualche rumore Di qualcuno Che Vai per favore Basta No 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 Fuori fuori Ho voluto Ho voluto Ho bestemmiato E non sono uno Che sono detto A bestemmiare Qua purtroppo Mi è partita una bestemmia Perché c'erano Dei bambini Che mi fa stermare Fuori L'ho buttato fuori E l'ho cliccato Color Aspetta Porco Dio Scena molto brutta Chiedo anche scusa Per la rimessa Purtroppo Ciao ragazzi È uscita Il problema dei tre corpi Una nuova serie tv Davvero appassionante Sto scherzando Dez Sto scherzando Dez Anna Sei veramente Una persona speciale Veramente Una persona speciale Dez Veramente Veramente Una grande persona Ma sto condividendo Il mio telefono Ma perché si vede Il mio telefono Top 50 Italia Il tuo aggiornamento Molto bene Non mi avete fatto ridere Come sempre ragazzi Mi spiace Bianca Metà giornata Quella proprio bella gialla Di inizio mattina Quale scegli? Allora Io non ti C'è stato un po' costato Il mese Della donna Quindi non voglio Essere un 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 Guardami che giorno era Eccoci Cosa L'8 marzo L'8 marzo L'8 marzo L'unico giorno Che non ho fatto Violenza domestica Qui a casa No no no